Assessore Presti, perché avete deciso di fare comunque il panevin nonostante quello che dice l'ARPA? Io trovo che ogni anno questa polemica la trovo paradossale. Io credo che l'aria nostra qui non sia quella della città. Arcade chiude così la polemica su panevin e polveri sottili, perché la scelta di Treviso legata all'alto tasso di inquinamento dell'aria potrebbe non valere per gli altri comuni della marca, che sulla questione sono andati un po' in ordine sparso, considerando che ad esempio Quinto ha deciso di non farli, mentre Ponzano li ha ridotti di dimensione, ma comunque li ha accesi. Cosa simile per Villorba, con mini farò simbolici, alti non più di un metro e mezzo e larghi due. Cosa ben diversa per Arcade, con la catasta che sfiora i 10 metri di altezza per almeno 5 di diametro, che racconta l'impegno di almeno 200 volontari, in gran parte alpini. E allora non si poteva dire di no, non facciamo più niente? Non si può dire di no a una cosa così straordinaria come l'attività di volontariato. Non dimentichiamo comunque una cosa, che gli alpini non solo ad Arcade, ma un po' ovunque, fanno comunque il bene della comunità. Alpini presenti un po' ovunque in questa mappa che vede soprattutto sulla sinistra Piavi il ritorno della tradizione dopo le limitazioni del Covid. Qui tutti i sindaci dell'Opitergino Mottense hanno firmato una deroga ai panevin che solo a Fontanelle saranno ben quattro. Ma il record dei fuochi nella notte dell'Epifania lo raggiunge il quartiere del Piave, con una trentina di cataste accese in vari momenti tra il tardo pomeriggio e la serata. Da Segusino a Tarzo, cataste accese dalle fiaccole benedette alle 6 della sera in piazza Moriago, per un rito riscoperto e rinnovato da un quarto di secolo, in una tradizione antica quanto l'uomo, che nei fuochi delle notti più lunghe dell'anno, ieri come oggi, invoca il ritorno della luce e della speranza per una nuova stagione di vita.